Oh, ciao! Ciao, vicina! Hai un pianoforte? Non credevo sapessi suonarlo. Solo un po'. Buon compleanno. Non avresti dovuto. Ok, va bene, allora. Me lo dai? L'ho fatto io. L'hai dipinto tu. Dipingi. In fondo non sai tante cose di me. Marcus. Grazie, lo adoro. Io ho un ragazzo. Lo so. Siamo solo amici, vero? Sì, amici. E Padma? Non mi importa di Padma. Beh, è un peccato per Padma, perché è evidente che le piaci molto. Non ti importa di piacere a qualcuno? No, non mi interessa piacere. Trovo irrispettoso il modo in cui la tratti. Mi dispiace, non sono perfetto come Hunter. Hai ragione. Ti prego, è proprio un idiota. Non ha neanche un minimo di personalità. Ehi, Hunter ha personalità. Andiamo. Credi che lui ti conosca? Certo che mi conosce, è il mio ragazzo. Stiamo facendo sul serio. Faremo sesso. Cosa? Sì, domani sera. Buon compleanno.